Diciamo, Salvini strumentalizza sempre queste occasioni per continuare a fare propaganda contro odio e incitamento all'odio, islamofobia e razzismo. Finire ovviamente sulla pagina di Salvini per me è un onore, perché significa che siamo sulla strada giusta come palestinesi, quindi un suo insulto per noi è un complimento e non ci intimidisce. Però Salvini doveva, diciamo, essere più onesto, perché quel video è stato tagliato e non ha riportato il video intero della mia intervista, dove nella prima e nell'ultima parte io avevo condannato qualsiasi violenza da qualunque essa venga, chiedendo una commissione d'inchiesta libera e indipendente che indaga sugli stupri di Israele. Tant'è che oggi c'è stata l'ONU che ha chiesto di fare una commissione d'inchiesta e Israele l'ha definita antisemita.